ripiene gratinate in umino con la pasta le cozze sono versatili e saporite oggi ti insegno come pulirle per verificare che le cozze siano davvero fresche controlla che siano ben sigillate e lucide in superficie a questo punto scarta quelle rotte o quelle aperte che andranno buttate puliamo le restanti togliendo prima di tutto il bisso questa sorta di lanugine con cui le cozze si aggrappano allo scoglio basta tirare energicamente verso il basso per staccarlo con un coltellino eliminiamo tutti i cirriperi le incrostazioni presenti sul guscio della cozza in questo modo ora non mi resta che grattare le cozze con una paglietta d'acciaio pulita per eliminare le impurità e i residui una bella sciacquata sotto l'acqua fredda corrente e le cozze sono perfettamente pulite conserva l'intrigorifero in un contenitore coperte con un canovaccio bagnato e consuma dentro la giornata ora che imparato a pulirle non ti resta che decidere come cucinare le tre cozze